Campus Party è per me l'esperienza comunitaria di una serie di giovani che sono tutti one of a kind e quindi si trovano insieme con modalità quasi scoutistiche però per qualcosa che è completamente diverso da quell'obiettivo antico è riuscire nella scoperta di un tragitto individuale verso una realizzazione che sta all'interno di un flusso tecnologico che è importante per tutti.